Chi ha paura del Natale, Erode, fa subito cercare il bambino per ucciderlo e stavolta c'è riuscito. Maria e Giuseppe non vegliano una creatura nata, vegliano un morticino. C'è la foto di Alan, il piccolo bimbo siriano di tre anni morto mentre stava cercando con la sua famiglia di attraversare le acque del Mediterraneo al posto della statua di Gesù Bambino nel presepe che Dono Torino ha allestito all'interno della chiesa di Santa Maria del Calcinaio qui a Cortona. È una provocazione sì, ma è anche un modo per scuotere le coscienze non solo dei cristiani ma anche delle istituzioni sorde, spesso alla richiesta di aiuto dei più deboli. Dono Torino sa bene quali sono i bisogni e grazie all'impegno di alcuni parrocchiani riesce a sopperire alla mancanza di cibo per circa 50 famiglie. Ma non basta, la foto del piccolo Alan deve riportare tutti noi al vero valore del Natale perso ormai tra consumismo e violenza. La storia di questa famiglia affogata nel Mediterraneo con il trafficante che fugge nella barca e li lascia soli a lottare con la morte è la storia di un Natale tradito. Me la prendo con le Caritas che sono rimaste istituzioni e non sono state capaci di realizzare l'idea di Paolo VI quando ha istituito la Caritas che convogliava tutti i cristiani in un progetto nuovo in cui ognuno sperimentasse un suo tipo di solidarietà. E me la prendo anche con i Vescovi perché ci hanno restituito una liturgia nuova ma non hanno il coraggio di darci la frazio panis. Oggi sulla politica dell'accoglienza il ministro Salvini ha un'idea ben precisa che spesso viene anche raccolta dai cittadini. I cittadini la pensano tutti come Salvini perché quando c'è le bistecche che gli vanno male la buttano al macero. Salvini non sa e non vuol sapere quante tonnellate di cibo vengono gettate ai bidoni della spazzatura quotidianamente da tutti i luoghi della grande distribuzione. Se avesse in mano i dati di questo sconcertante fenomeno forse ridimensionerebbe il suo accanimento contro gente che ha fame e va in cerca di un boccone di pane.